Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube, siamo quasi 127.000 iscritti, continuate ad iscrivervi, bentornati anche sulla pagina Facebook cui abbiamo superato il 1.600.000 follower. Oggi ho il piacere di farmi una bella chiacchierata con Francesca Piaggiotti, giornalista, autrice, autrice televisiva, attualmente lavora per Rai News 24 e il pretesto è la presentazione di un libro, chiacchierare di un libro che è uscito da poco per Paper First, si chiama Senza Giri di Boa, poi Francesca ci spiegherà per quale motivo il libro si chiama in questo modo, ripeto Senza Giri di Boa, uscito per Paper First, ma soprattutto questo libro ci dà l'opportunità di parlare di tematiche importanti su tutta la vera e propria resistenza che moltissime donne devono realizzare sul posto di lavoro, in particolare le mamme, perché essere mamma e lavorare nel nostro paese è ancora veramente un problema enorme, nello specifico Francesca poi tu mi conosci, sai che sono un papà molto presente, recentemente la mia compagna è andata a lavorare un mese di fila a Torino, io sono rimasto un mese di fila con i miei due figli piccoli, per me tra l'altro è stato un mese meraviglioso, non per la distanza della mia compagna, ma proprio per la possibilità di fare il papà a tempo pieno, anche perché l'ho letto nel libro, nell'introduzione, ancora troppi padri evitano di combattere per appunto il congedo parentale per i papà, cosa che viene garantita sempre più in altri paesi, se non specifico oggi la Spagna è probabilmente il paese europeo, ma forse al mondo più all'avanguardia, perché è un diritto anche per noi papà poter stare il più possibile con i nostri figli, il concetto appunto di maternità e paternità è il più possibile sovrapponibili, è veramente un diritto che io mi sento che alle volte viene privato anche a noi papà, oltre alle mamme, che per le mamme riuscire appunto a lavorare è un problema enorme, vi sono ancora carenze di diritti significativi e questo libro racconta una serie di storie, tra l'altro tante giornaliste hanno scritto e hanno raccontato delle storie, storie di tragica normalità, come viene definita, non qualcosa di straordinariamente tragico, la tragica normalità che vivono moltissime donne costrette appunto a scegliere, non solo qual è il momento giusto per la loro relazione, per la loro voglia appunto di maternità, qual è il momento giusto per avere un figlio, ma qual è il momento giusto per avere un figlio in relazione al posto di lavoro e a quello che potrebbe pensare fare il proprio datore di lavoro, c'è una violenza sconvolgente. Benvenuta Francesca, ripeto ancora una volta senza giri di boa, perché questo libro e innanzitutto perché questo titolo? Allora grazie mille per questa meravigliosa introduzione, tra l'altro diciamo tu saresti chiamato da molti che la vedono in modo un po' diverso da come la vediamo noi, mammo, cioè molti ti direbbero hai fatto il mammo in questi giorni, invece tu giustamente hai detto ho fatto il padre, questa secondo me è già una cosa bella che tu l'abbia detta così. Allora, senza giri di boa nasce dalle parole di una stilista, una stilista molto famosa che si chiama Elisabetta Franchi, che in un incontro pubblico con anche istituzioni, perché c'era la ministra all'epoca delle pari opportunità Elena Bonetti e c'era anche la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, erano collegate da remoto, era un incontro su impresa e donna, diciamo, donna e moda. Donna e moda in particolare, esatto. Elisabetta Franchi racconta come lei sceglie i suoi manager top level e racconta che si è accorta di averli scelti in gran parte uomini e le donne che ha scelto le ha scelte perché hanno fatto i quattro giri di boa, ovvero sono sopra 40 anni, si sono sposate, hanno divorziato, hanno fatto i figli, però ormai i figli sono grandi, quindi hanno fatto tutte le tappe che dovevano fare, così, dice la stilista, possono lavorare per me H24. Tutti questi elementi, cioè l'H24, l'over 40, figli, famiglia, divorzio, lei dice, hanno superato tutte queste cose, quindi sono libere, possono lavorare per me senza pensieri. Ecco, a noi queste parole ci hanno fatto un po' sobbalzare sulla sedia, era una sera di maggio, e insieme a un gruppo di tante, più di 20 inizialmente, poi siamo un po' scese, una ventina di giornalisti, ci siamo scritte e abbiamo detto dobbiamo reagire, perché questo modello di lavoro per il quale sei perfetta soltanto se sei sempre disponibile e se sacrifichi tutto per poter essere sempre più performante, con l'idea di essere performante, che è un'idea secondo noi un po' sbagliata, insomma, abbiamo voluto provare a dire la nostra, e quindi abbiamo scritto delle cose sui social, pensando insomma che era semplicemente la nostra libera manifestazione del pensiero. Quello che è successo è che invece dopo questa, queste nostre uscite sui social, hanno iniziato a scriverci tantissime persone che hanno sentito le parole della Franchi, hanno visto le nostre storie e non erano per niente d'accordo con questo modello di lavoro e di società. E quindi abbiamo detto noi facciamo le giornaliste, invece di raccontare di noi, raccontiamo le storie che ci sono arrivate. E questo, da qui è nato il libro, che la Paper First ha deciso di pubblicarci, con grande e noltre sorpresa, e che adesso sta diventando uno spettacolo teatrale, che andrà, diciamo, in scena domani alla nuvola nel Festival Più Liberi Più Libri. E questo per noi ovviamente è una grande felicità, è anche una grande, come posso dire, una cosa molto inaspettata. Però ecco, questo perché? Evidentemente, perché abbiamo toccato un tema che abbiamo capito essere vitale per molte delle persone che ci hanno scritto, e anche per molti altri. Cioè, il tema della modalità di lavoro H24, per esempio, è un tema che riguarda uomini e donne, non soltanto le donne. È chiaro che in un paese in cui la cura, la famiglia, la casa, spesso è sulle spalle delle donne, l'H24 diventa ancora peggiore per le donne, ovviamente. Però è un problema anche degli uomini, non è un problema solo. Quindi è un problema che riguarda tutti, che è un problema di modello di lavoro che ti sfrutta fino allo stremo e che pensa che tu possa rendere meglio se lavori continuamente. Se io ti posso chiamare a qualsiasi ora del giorno della notte, in modo che tu non hai tempo libero, non puoi fare le tue cose, è perché devi lavorare. Se non lavori con questa celerità, con questa adesione, vuol dire che sei uno sfaticato. Questo è un po' il modello, no? Quello che Elisabetta Franchi, ma non è che ce l'abbiamo con lei, eh. Anzi, lei, ringraziamo sempre, perché se non aveste detto quelle parole, noi non ci saremmo incontrati. Lei ha un po' ritrattato, ho letto che ha ritrattato queste dichiarazioni settecentesche. Sì, le ha ritrattate dicendo quasi peggio, vabbè, comunque non parliamo di lei. E tra l'altro recentemente ha ricevuto un premio come, diciamo, imprenditrice. Ecco, a noi questo invece, questo modello di imprenditoria e di intendere il lavoro, con questa cosa non ci piace. Anche perché abbiamo capito, in tanti paesi ci sono degli esperimenti, no? Sulla riduzione del numero delle ore di lavoro. Cioè, un lavoratore non è più produttivo se lo spremi fino alla morte. È più produttivo se ha un obiettivo, gli piace il suo lavoro, può vivere e lavorare, allora diventa più produttivo. E anche, aggiungo una cosa, è più produttivo se non ha sensi di colpa, dovuti magari all'impossibilità che questo sistema produttivo le dà alla mamma o gli dà ai papà di impossibilità a crescere adeguatamente i figli e come ben sai, anche perché tu sei diventata mamma da poco, i figli, i bambini, soprattutto i primi anni di vita, hanno bisogno fondamentalmente di una cosa, della presenza dei genitori il più possibile. Io ho fatto, come sai, anche delle scelte personali che me hanno consentito di non perdermi praticamente nulla della crescita dei miei figli e non ho nessun senso di colpe. Quando devo lavorare, poi io ho la fortuna di gestire il mio tempo come voglio, scrivo, per cui vado tutti i giorni a prendere i bambini a scuola, li porto in piscina, a tennis, cucino praticamente sempre io a casa perché sarà appunto lavoro fuori e poi magari mi metto a lavorare di notte, ma quando lavoro sento di essere maggiormente produttivo perché in primis ho la soddisfazione di sentirmi un bravo papà e la stessa cosa avviene appunto con le mamme. Francesca, nel capitolo che tu hai scritto leggo una frase, fino a quando la perdita del lavoro di una donna in attesa sarà solo il problema di quella donna e non un'offesa a tutte le donne lavoratrici e un danno a tutta la società non se ne uscirà. Allora, se ci spieghi meglio in che consiste appunto il danno a tutta la società e per quale motivo una parte, non tutta, perché la pubblica opinione inizia a diventare sempre più sensibile rispetto a questa e queste tematiche, perché una parte di pubblica opinione ancora non comprende che queste carenze di diritti che appunto che subiscono le donne, le mamme e anche diversi uomini sono una violazione di diritto umano per tutta la società. Allora, diciamo, io dico sempre quando provo a parlare nelle presentazioni di questo libro che i temi che noi trattiamo dovrebbero interessare tutti per due motivi principalmente. Primo perché i figli sono per me il patrimonio di una società, il futuro di una società, per cui se si fanno meno figli e nel nostro paese se ne fanno pochissimi, quest'anno non siamo arrivati a 400.000, veramente pochissimi, gli anni del boom economico se ne faceva un milione ad anno di nuovi bambini, la nostra società, il nostro paese ma non soltanto tutti i paesi occidentali in gran parte sono in un inverno demografico spaventoso quindi se non ci sono figli è un problema per tutti, questo penso io. Perché non ci sono figli? Perché spesso fare un figlio ha un costo per le coppie più alto di non farlo. Lo dico semplicemente, ci provo. È il concetto di costo-opportunità cioè per una coppia diciamo la costo-opportunità è la differenza tra quanto guadagnerei se non avessi figli e quanto guadagno avendo figli. La differenza di questo qui si chiama costo-opportunità più questo costo è alto sapete quando è più alto? Quando io sono molto qualificata sono magari laureata o master faccio un lavoro di alto livello quindi per me avere dei figli mi costa perché mi porta indietro il reddito perché mi porta indietro l'edito perché spesso mi devo fermare il fatto che mi fermi non mi viene incentivato o retribuito ugualmente mi viene semplicemente tolto nel nostro paese adesso c'è la proposta di fare il congedo parentale di aumentarlo di un mese all'ottanta per cento solo per le donne non per gli uomini tra l'altro questa proposta nella manovra di adesso ecco quindi questo costo-opportunità se io voglio incentivare le coppie ad avere figli devo abbassare questo costo-opportunità cioè io devo poter anzi maggiormente più sono qualificata nel mondo del lavoro più mi si deve aiutare a non perdere il mio livello di reddito e quindi a non perdere la possibilità di fare figli perché magari mi faccio un calcolo i figli non li voglio perché non voglio perdere il mio benessere la dico in maniera cinica chiarissimo e questa è una prima ipotesi è una prima cosa cioè fare meno figli è un problema per tutti secondo me per tutta la società per cui aiutare a fare più figli è un interesse di tutti quanti noi questo si può fare in due modi diciamo dicendolo per grandi linee si può seguire un modello tipo Ungheria un modello Orban cioè incentivo e do tantissimi soldi più figli fai che è un buon modello per esempio quello del quoziente familiare se ne parlano se però io a questo non metto insieme anche delle politiche di incentivo al lavoro e cosa succede che io se ti do più soldi più figli fai tu diciamo donna che diciamo fai i figli sarai più portata a stare a casa piuttosto che lavorare quindi cosa avrò cioè io incentivo la natalità ma disincentivo il lavoro di fatto quindi che devo fare devo fare il modello Francia il modello Spagna cioè io se hai più figli ti sostengo ma ti sostengo anche con gli asili nido ti sostengo anche con tutte le strutture che ti consentono se tu vuoi tornare al lavoro ti tornare al lavoro ti do un congiato parentale obbligatorio paritario cioè sia la donna sia l'uomo sia il papà sia la mamma si assentano obbligatoriamente non è che la mamma come succede in Italia cioè il congetto parentale ce l'hanno sia la mamma sia il papà però spesso il papà non lo fa lo fa la mamma cioè lo cede diciamo così ecco questa cosa in Spagna non si può fare cioè il papà lo deve fare come la mamma in contemporanea che in effetti Alessandro tu lo sai perché hai avuto due figli quando nasce un bambino la cosa migliore per il bambino ma anche per i genitori è che i genitori ci siano tutti e due per cui questa allora questa via qui è la via che permette diciamo di incentivare la natalità che dovrebbe essere secondo me un interesse della società per il proprio futuro però anche incentivare il lavoro femminile perché di fatto tu permetti sostieni non semplicemente il fare figli ma anche la possibilità di lavorare per le donne e anche per gli uomini e soprattutto la possibilità che una volta che tu hai finito il tuo periodo in cui stai a casa con tuo figlio per i primi anni per i primi mesi poi torni al lavoro e quel lavoro esiste ancora non c'è più perché c'è qualcun altro che lo fa al posto tuo che è come spesso accade nel nostro paese molte delle storie infatti poi ti vorrei chiedere se ci parli di due o tre storie contenute nel libro intanto vorrei dare alcuni dati che prima Francesca faceva riferimento appunto al tema della natalità allora secondo uno studio uscito dell'osservatorio nazionale feder consumatori mantenere un figlio in Italia da 0 ai 18 anni costa mediamente 175.642 euro tutto compreso il che significa banalmente che chi fa due figli come nel mio caso nel caso mio della mia compagna già sappiamo che dobbiamo guadagnare per i prossimi 18 anni da 0 a 18 anni per i due figli circa 350.000 euro magari qualcosina di meno perché alcune spese si possono ammortizzare soprattutto se hai due figli dello stesso sesso però parliamo di cifre sconvolgenti appunto quando tu citavi come l'hai definita costo-beneficio in un certo senso l'altra questione rispetto alla natalità secondo studi molto molto prestigiosi nei prossimi 50 anni l'Italia potrebbe perdere 14 milioni di abitanti cioè arrivare a 47 milioni di abitanti che in questo momento non so se lo sapevi Francesca sono più o meno gli abitanti di Shanghai e provincia e questo è un dramma per diciamo anche il sistema pensionistico ma poi appunto il paese finisce cioè il popolo italiano è un popolo in via di estinzione siamo in via di estinzione gli italiani sono in via di estinzione perché non vi sono politiche adeguate appunto a sostegno della natalità e a sostegno del lavoro e della natalità come dicevi tu perché banalmente ora dirò una cosa politicamente scorretta io ho visitato la periferia di Mosca per andare al a vedere il mural di Yorit raffigurante Yuri Gagarin e sono andato a informarmi un po' su come funzionano gli asili e lì c'è un modello un po' simile a quello appunto ungherese ovvero grande sostegno soprattutto poi in Russia siccome sono pochi rispetto al grande paese che sono alla grandezza del paese asili nido che prendono i bambini alle sette del mattino e li ridanno alle sette di sera però diciamo le politiche attive a sostegno del lavoro femminile sono diciamo ridotte rispetto a paesi scandinavi o banalmente con tempo sai Francesca dicevamo prendevamo a modello sempre la Svezia la Norvegia la Danimarca oggi la Spagna che per molti versi è un paese simile al nostro mediterraneo e sono molto simili a noi appunto ha approvato delle leggi veramente all'avanguardia io sogno la possibilità un domani di vedere papà anche per scelta quando glielo consentono appunto anche le possibilità economiche decidete liberamente di restare a casa e le donne che vanno al posto di lavoro e diciamo e magari capita pure una fase della vita che il casalingo lo fanno lo fa il papà ma perché no tra l'altro interrompo perché abbiamo fatto una diretta recentemente con Paola Umaugeri che si è trasferita in Svezia e lei ci raccontava proprio questo cioè che sotto casa sua spesso vede diciamo gruppi di papà che si chiamano dalle case vicine scendono con i bambini e vanno diciamo a fare colazione tutti insieme con i bimbi piccoli e lei mi diceva questa cosa importante non soltanto per quei papà ma per i figli perché cresceranno con un modello maschile che non tocca la mascolinità l'essere maschio il fatto che ti occupi di tuo figlio anzi al contrario cioè è una cosa normale anzi bella diciamo perché ci sono rimasta così infatti siccome io amo molto cucinare e cucino sempre anche perché è una cosa che mi rilassa tanto mio figlio grande quando gli chiedo cosa vuoi fare da grande dice il cuoco perché vede il papà è il modello del papà mio che è sempre davanti ai fornelli però guarda Francesca è proprio a me la cosa che mi realizza più di tutto è quella appunto di avere la possibilità e il tempo di fare il padre nel libro si sottolinea il fatto che le problematiche peggiori le vivono le donne e mamme al sud e volevo chiederti appunto informazioni su questo e qualche storia perché ho letto anche di una storia sconvolgente appunto di una donna che è stata costretta a lasciare il posto di lavoro perché non coincideva gli orari di entrata al proprio posto di lavoro con gli orari dell'asilo nido per poter prendere il figlio e quindi è stata costretta a lasciare il posto di lavoro altrimenti non aveva una possibilità anche perché questa è un'altra problematica enorme che un tempo sai la società come era costruita qualche decennio fa con le nonne le zie le famiglie allargate tant'è che si cita un proverbio africano che io conoscevo già in questo libro per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio l'Ubuntu la comunità questo è un po' il concetto tra l'altro io l'ho visto con i miei occhi quando lavoravo in Congo Francesca quando ahimè morivano i genitori per patologie drammatiche alle volte a malnutrizione ma soprattutto all'HIV in paesi africani la comunità si prendeva cura dei bambini oggi per noi è sempre più difficile questa problematica me la vedo a casa mio papà vive fuori comunque alla sua età mia mamma non c'è più i genitori di Sara vivono in Francia noi ci dà una grande mano mia sorella però noi siamo veramente soli non c'è neanche questa comunità che forse esiste ancora forse più al sud che al nord ma se manca perché poi giustamente la società va avanti le donne lavorano vi saranno anche poco rispetto ad altri paesi donne sempre più ruoli di responsabilità però se questa società va avanti è lo stato che si deve far carico di una mancanza comunitaria che oggi è evidente sotto gli occhi di tutti questa storia di questa donna mi ha sconvolto anche se poi le conosciamo quotidianamente quindi se ci vuoi raccontare qualche altra storia contenuta nel libro ma allora per esempio diciamo noi abbiamo avuto perché in questa abbiamo avuto vabbè ti racconto la prima storia che è questa storia di questa ragazza che si chiama Federica che è una ragazza che vive al sud per l'appunto vive a Taranto lei ha avuto una figlia diciamo è sostanzialmente una ragazza madre nel senso che il padre della bambina a un certo punto sparisce comunque lavora e in ogni caso il rapporto finisce lei torna dai suoi genitori diciamo dopo essersi laureata aver fatto un master per cui essere diciamo di una formazione molto alta e quindi essere tra l'altro considerata molto brava nello studio per cui sia i genitori sia gli insegnanti anche a livello universitario le dicevano tu sei perfetta andrei benissimo lavorerai benissimo perché sei molto brava ecco lei praticamente per tutta una serie di vicissitudini legate al fatto che è dovuta tornare a Taranto perché prima stava al nord non trovava più lavoro non ha trovato più lavoro adesso vive grazie al reddito di cittadinanza e lei diciamo è una ragazza che potenzialmente non solo vuole ma sarebbe occupabile sarebbe esatto è occupabile però di fatto chi si occupa di sua figlia se lei non se ne occupa è nessuno e quindi lei si deve occupare di sua figlia e tra l'altro è molto è una delle storie che tra l'altro racconteremo anche nello spettacolo perché c'è tutta c'è tutta una dinamica pesantissima di senso di colpa cioè lei si sente in colpa in colpa di non lavorare in colpa con la figlia che non le dà le opportunità in colpa perché si sente una fallita per non essersi realizzata ecco questo meccanismo qui a noi ha diciamo davvero colpito nel caso di questa ragazza ma ce ne sono altre di storie c'è la storia di Bruna che è una donna diciamo più grande che ha avuto tre figli che ha avuto una disabilità grave e che non riesce più a poter lavorare che ha fatto lavori pesantissimi che l'hanno sfiancata però non ha una pensione e il fatto di avere dei figli l'ha praticamente resa invisibile cioè quando vai quando vai a fare i colloqui adesso ha una disabilità però lei vuole lavorare e può lavorare diciamo per certi tipi di lavori è in parte disabile più ai figli praticamente per nessuno va bene per essere per lavorare oppure ci hanno scritto ci ha scritto una una ragazza diciamo del nord Italia che lavora in un'azienda una top manager che praticamente non ha non ha dovuto rinunciare ad avere un figlio per poter lavorare cioè non ha avuto la possibilità di farla ha rinunciato da sola cioè non avrebbe ha rimandato ha rimandato ha rimandato fino a quando un figlio non l'ha fatto più oppure ci ha scritto una ragazza che per aderire a questo modello di lavoro H24 è arrivata sull'orlo di un di un atto molto molto pesante ti dico che quando ci è arrivata la sua lettera ci è arrivata accompagnata da una foto in cui si vedeva il suo collo che era stato tagliato praticamente perché lei si era aveva tentato insomma di togliersi la vita per fortuna lei sta bene la vita non se l'è tolta e sicuramente diciamo ha una fragilità importante però è stata portata all'estrema conseguenza da queste richieste continue di trasferimenti di presenza sul lavoro e questo senso di angoscia di preoccupazione di aderire sempre di più alle richieste perché se non faccio quello che mi chiedono mi licenzieranno non sarò la persona giusta per loro eccetera eccetera ecco questo senso di oppressione non si fa più un lavoro che ci piace ma si fa un lavoro non solo per necessità ma anche con questo senso di oppressione ecco è una dinamica che ci ha colpito e che è un po' trasversale tra le storie che ci hanno scritto questa ragazza non ha figli quindi non è un tema soltanto di figlio non figlio certo avere un figlio diciamo c'è un plus di difficoltà è un livello diciamo di difficoltà diversa però non è che se non hai un figlio allora la tua vita non vale niente e quindi puoi lavorare e basta c'è la vita fuori c'è l'arricchimento personale c'è quello che poi ti rende la persona che poi magari produce bene quindi diciamo l'idea nostra appunto non è quella semplicemente di voler far volerci fare farci potta voce di un gruppo di mamme ma proprio di un gruppo di persone che vuole dire questo modello di lavoro che magari è un modello di lavoro che ho seguito anch'io perché anch'io ho lavorato H24 spesso nel passato più che H24 ecco mi sono resa conto che forse è un modello che si può ripensare che se lo ripensa la società viviamo tutti meglio e produciamo anche di più per cui perché non si può provare Francesca secondo te le tecnologie in questo senso hanno peggiorato il modello hanno dato degli strumenti a chi evidentemente supporta il modello H24 di schiavi moderni perché di questo si tratta la possibilità appunto di realizzare tale modello allora noi abbiamo detto che con la pandemia lo smart working abbiamo scoperto lo smart working si può lavorare da casa eccetera sì certo lavorare da casa se hai una famiglia una casa piccola e dei figli non è proprio smart è complesso in più la tecnologia ti consente di essere sempre raggiungibile a qualsiasi ora del giorno della notte infatti in alcuni paesi si parla del diritto allo stacco cioè allo staccare il telefono perché se no diciamo con questa idea della flessibilità che però è semplicemente la possibilità di essere sempre reperibili allora non è flessibilità è controllo di un altro punto di vista quindi secondo me diciamo sono strumenti che possono essere utili perché per esempio per tante famiglie non sono stati utili durante la pandemia che poter lavorare il smart working però possono cioè vanno regolati perché se no da un lato ci sarà sempre chi dice tu non vuoi lavorare quindi vuoi lo smart working per non lavorare cioè da parte abbiamo avuto un ministro che ne parlava che diceva sempre questo dello smart working per cui a un certo punto l'abbiamo tolto e però dall'altro lato diciamo o lavori troppo poco o ti controllo fino a quando cioè ti controllo ogni singola cosa per esempio una delle storie che abbiamo raccontato nel nostro libro è di una ragazza che dopo la sua seconda gravidanza praticamente è stata demanzionata e gli hanno detto ok stai a casa non ti preoccupare lavora da casa però il suo lavorare da casa era praticamente stare continuamente davanti al computer per cui non aveva una vita comunque quindi bene le tecnologie però diciamo ci vuole una regolamentazione perché ci vuole un senso secondo me no? cioè questa società deve avere un senso di che vuol dire lavorare che vuol dire essere società allora in base a quel senso lì tu puoi ricalibrare tutto e quindi creare un sistema di lavoro che non che non faccia diciamo che non sia che non vada nel senso della diminuzione dei diritti perché vogliamo una flessibilità maggiore tra l'altro appunto col fatto che ci sono delle nuove tecnologie anche i diritti acquisiti in passato probabilmente vanno rimodulati cioè anche i sindacati certe tutele vanno ricapite perché adesso non è più come una volta pochissimi sono quelli tutelati davvero con i sistemi di tutela della diciamo pre-rivoluzione diciamo così digitale no? cioè io sono adesso attualmente sono una privilegiata perché sono una della rivoluzione cioè una assunta a tempo indeterminato della rivoluzione pre-digitale ma chi come te o come altri lavora in maniera da freelance ecco deve trovare degli strumenti di tutela nel mondo nel mondo del lavoro per poter essere tutelato e anche per poter tutelare la propria famiglia se ci pensi un tempo si usciva dal posto di lavoro io mi ricordo quando ero quando ero piccolino c'avevamo a casa il duplex cioè quando telefonava il vicino non potevamo utilizzare il telefono noi si andava a aspettare che forse c'è qualche film di verdone che il verdone dice no no chiamami alle 7 poi si attacca alla vicina e col duplex poi parla di loro in effetti come dire vi era una tutela della nostra della vita di tutto ciò dei tempi morti che poi morti non sono che poi anche il cuore del vostro libro è guardate che questo modello oltre a toglierci i diritti oltre a rovinarci la vita oltre ad aumentare l'utilizzo degli psicofarmaci che è alle stelle il nostro paese oltre a creare il senso di colpa che poi è proprio per me la società di oggi è caratterizzata dai sensi di colpa che poi producono a pioggia disastri su disastri psicologici oltre a tutto questo guardate che è anche un'utopia quella della maggiore produttività e quindi della maggiore efficienza del sistema stesso sbaglio o è così? no no assolutamente è assolutamente così cioè noi scommettiamo ma ci hanno scommesso molti sistemi oddio scusa balla tutto molti sistemi economici e sociali ci hanno scommesso cioè la riduzione dell'orario di lavoro non è un'invenzione di senza giri di boa cioè è una cosa che in alcuni paesi si fa e ha degli effetti positivi quindi perché non provarci anche in Italia non con l'idea sempre che dobbiamo essere sfaticati perché vogliamo lavorare di meno ma insomma è anche giusto lavorare per vivere non vivere per lavorare almeno noi la pensiamo così diciamo il diritto alla disconnessione nel senso disconnessione dal lavoro secondo me è una cosa che dovremmo che dovremmo avere che dovremmo fare in più diciamo se consentiamo a tutti pari che poi l'altro tema che prima ti stavo cercando di citare poi mi sono persa nelle nostre chiacchiere però bella discussione era che se accettiamo che nella società collaborano le donne a pari livello degli uomini questo è l'altra diciamo vantaggio di far lavorare le donne come gli uomini è che non ci perdiamo dei talenti perché comunque delle menti dei talenti perché comunque le donne spesso hanno lavorano bene hanno delle buone idee spesso e volentieri quindi perché ci dobbiamo perdere questa metà del cielo semplicemente perché abbiamo un'organizzazione del lavoro che non funziona facciamoci lavorare tutti meglio in modo che poi alla fine le guate rosa le mandiamo in soffitta e abbiamo un simpatico sistema che sceglie e fa lavorare i più bravi davvero che però magari gli consente anche di stare in piedi anche con la loro vita con le loro relazioni non chiede di tutto questo è un mio parere personale anche quando ero parlamentare votammo anche contro io sono contrario alle quote rosa ma questo è un mio convincimento personale si apre sempre il dibattito sono un male necessario questo è quello che penso io è legittimo legittimo io quando ero legislatore non potevo avallare un male poi necessario io lo capisco ma ho paura sempre ma questo è apriamo un mondo ho paura sempre che poi non si possa arrivare a quel cambio vero e proprio ma comunque è un altro discorso invece voglio farvi rivedere ancora una volta la copertina senza giri di boa ecco qui abbiamo 20 giornaliste appunto 20 giornaliste raccontano con testimonianze di donne senza voce l'ordinaria resistenza sul lavoro e come si può cambiare tutto perché cambiare di tutto si può io ti ringrazio Francesca è stata una bella diretta in bocca al lupo per lo spettacolo in bocca al lupo per il libro e grazie perché in questo libro è contenuta la lotta per dei diritti che ci vengono tolti a donne e uomini e anche che banalmente tu prima hai citato appunto il diritto alla disconnessione che non non ci pensiamo perché stiamo sempre con questo cellulare in mano ma appunto rappresentano diritti per i quali probabilmente si combatteranno le prossime battaglie ai prossimi 20-30 anni e tra qualche anno vedremo che addirittura faranno parte dei programmi dei partiti politici io mi auguro grazie anche io grazie per questa opportunità che ci hai dato a me e a tutte le altre colleghe grazie a chi vorrà comprare il libro si trova online in tutte le librerie e domani mi raccomando venite a vederci la nuvola perché siamo 18 e 30 auditorium alla nuvola di Fux nel festival dei libri più libri più libri e lo spettacolo si chiama Senza Giri di Boa tra l'altro ha la regia di una bravissima regista che è Tiziana Foschi le musiche originali di Pasquale Pilastot tra l'altro avremo Martina Dell'Ombra che aprirà il nostro spettacolo Federica Cacciola che farà uno sketch diciamo di apertura dello spettacolo insomma noi li aspettiamo e ci sarà c'è anche lo stand della Paper First quindi qualora ci fossero persone interessate ad acquistare il libro lo troverete senz'altro anche lo stand della Paper First grazie Francesca un grande in bocca al lupo per tutto grazie mille